Negli ultimi 90 minuti di regular season, nel girone di prima categoria, i riflettori sono tutti puntati sul derby dell'Alcantara tra Desport, Gaggi e Calatabbiano. La formazione di Graziano Peri deve vincere per difendere il secondo posto dagli assalti dell'Aci Sant'Antonio. Un secondo posto che consentirebbe di affrontare lo stesso Aci Sant'Antonio nella finale play-off del girone tra le muramiche del Calanna. Sant'Antonesi e Ionici saranno le uniche due squadre che disputeranno nel girone e gli spareggi promozione in virtù della regola dei 10 punti. Il quarto posto a questo punto è diventato più che altro un traguardo simbolico, a cui però il Milo di Giancarlo Fichera tiene lo stesso, per questo vorrà vincere in casa contro il cittadino Cicatena che ancora può agguantare i Milesi a 39 punti. Cerca un finale di campionato positivo proprio dopo la vittoria sul Milo pure la russo calcio di mister Leonardo Barbagallo a Letoianni contro la Robur.